Quanto a Faraone, non capisco quale sia la soluzione, cioè loro non volevano, loro dico il PD e in generale la sinistra, non vuole un accordo con la Tunisia perché pensa che si debba costruire invece un'accoglienza diversa. Che cosa vuol dire l'accoglienza diversa? Più immigrati e dopo dove li sistemano? Dice non bisogna tenerli nei CPR, benissimo, ma quelli che vengono messi nei CPR è perché dovrebbero essere espulsi, perché non hanno titolo per rimanere qui. Cioè è una migrante illegale, quando Faraone dice bisogna respingere l'immigrazione illegale, benissimo, direi che calcolando poi i dati l'80% di quelli che arrivano in Italia sono immigrati illegali perché non hanno diritto di rimanere in Italia, dovrebbero essere rispediti a casa perché non fuggono da guerre, non fuggono da situazioni particolari, fuggono da una situazione in cui dicono voglio andare in un altro paese perché penso di stare meglio. Legittimo, ma in genere si fa una domanda per poter entrare in un paese. Quindi non capisco quale sia la soluzione. Quale sarebbe la soluzione? Carmen la sorella. Grazie. Grazie.